Sicuramente è il momento della mia vita che avevo tantissime domande proprio sulla mia fede. Allora ho preso l'indirizzo di questo istituto missionario della Consolata. Allora ho scritto al padre che era direttore vocazionale e gli dissi nell'oggetto della lettera avevo scritto, ancora mi ricordo, per conoscere qualcosa di più sulle opere dei missionari della Consolata. Poli polemse Atufungwa Poli polemse Poli polemse Atufungwa Kenyata letaka Kenya Kenyata letaka Kenya Kenyata letaka Kenya Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vengo dal Kenya, che è la parte dell'est dell'Africa Ho 36 anni E' arrivato in Italia 10 anni fa Quindi ho 10 anni in Italia Ho preso i miei studi Ho fatto parte del mio studio Dell'università, del seminario L'ho fatto in Kenya Quindi ho fatto 5 anni in Kenya Di qui un anno ho fatto in Uganda Proprio quando entravo nel seminario Ho fatto un anno in Uganda Poi i 4 anni li ho fatti in Kenya Poi dopo questi 5 anni Sono venuto in Italia Dove ho fatto i primi 3 anni Li ho fatti a Roma, all'università urbaniana Poi ho fatto un anno Dello stage che l'istituto vuole Che possiamo chiamare L'anno di servizio Che è un anno dove proprio Veniamo in contatto anche con la comunità Viviamo insieme con altri padri Altri confratelli Per condividere la vita comunitaria Dove impariamo anche dalla comunità Ma anche la comunità impara qualcosa da noi Dopo un anno Quell'anno di servizio Che ho fatto a Brescia Sono venuto qui a Milano Bevera Dove ho fatto 3 anni Della specializzazione Sull'indirizzo teologia morale In modo specifico Ho fatto la mia specializzazione Sul mondo Su processi migratori Dove ho avuto anche l'opportunità Di fare una parte dello studio Nel Dipartimento delle Scienze Politiche A Milano